Non posso non dire, se la dico dopo ha anche meno efficacia. Quando ho scritto la prossima canzone, allora, pensai al peggior telegiornale italiano che era a studio aperto. Adesso ho fatto la gara, la gara del peggiore, pare, e quindi, insomma, devo dire, questa è stata la prima settimana che finalmente abbiamo visto un telegiornale normale, finalmente, e quindi quando canto questa canzone oggi mi viene finmente Minzolini. Con un sassi rotondino, una scatola quadrata, un passato e poi vivere sinceramente da un po', si, 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 mi dà la giornata, con un sorrentino. Usciamo fuori da partiera e l'ora non per tese, sono io, sabato, mamma. Fermare la gente, però mi sembra un po' una gran tavanata, anche perché... Sono alla festa del PD, mi chiamo Bersani, quindi ci sarà pure quello che ha detto ah, c'è Bersani alla festa del PD, andiamo a sentire il comizio. Allora, volevo dire a questi, e anche per voi che faccio subito una canzone, forse una delle più popolari del mio repertorio, non mi faccio aspettare la fine, voglio che andiate a casa quando avete voglia, non aspettando le ultime canzoni, e poi andate a mia dopo questa canzone, finita. E vabbè, non sto a presentare le canzoni colpito, non so. Spero, non sto a presentare le canzoni colpito, non so. E poi, non sto a presentare le canzoni colpito, non so. E poi, non sto a presentare le canzoni colpito, non so. E poi, non sto a presentare le canzoni colpito, non so. E poi, non sto a presentare le canzoni colpito, non so. E poi, non sto a presentare le canzoni colpito, non so. E poi, non sto a presentare le canzoni colpito, non so. E tutto male, la camera di sede, il mare di spazio, venite, tiriamo fuori tutti a noi cittadini, o che so già che mi stai lasciando il popolo, il popolo, è un modello, è un modello, e non ti prendo, che non lo sesso, come il cammino, se il titolo di va bene, Grazie. 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 Grazie.